grande valte la 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 fuoco grazie 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 forse siamo riusciti a a collegarci un po' in ritardo però meglio tardi che mai a volte dunque il sesto senso maglia nera giusto? ah non li conosci neanche tu? 0 a 0 comunque il risultato dopo sei minuti di gioco circa abbiamo avuto un po' di difficoltà all'inizio adesso sembra tutto a posto forse meglio di prima prima comunque la partita verrà ricaricata registrata quindi proprio perché la diretta non ha non ci ha soddisfatto grazie 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 tantissimi gol tantissimi gol nella prima semifinale 7 a 6 il risultato in questa seconda semifinale 0 a 0 il risultato è ancora inchiodato non ci sono stati gol non ci sono stati gol anche grazie fenomeni grazie Grazie. 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 Sblocca il risultato al tredicesimo. 1-0 per il sesto senso. Grazie. Grazie. Il raddoppio del sesto senso. Il giro di due minuti, 2 a 0 per il sesto senso. Grazie. 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 Vai te Ale. Vai te Ale. Ale vai te. Masi bene batte. Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti